Ecco, ho chiesto a Lucrezia Martel di leggere la laudazio, come sapete in queste cerimonie di consegna dell'one d'oro, così come viene nelle consegne delle lauree ad onore, c'è sempre qualcuno che si incarica di pronunciare una laudazio per il premiato. Lucrezia ha accettato con piacere e con entusiasmo di svolgere questo compito. Prego. Grazie. Pedro, sto molto nerviosa, spero non chiedere. Estamos oggi riuniti per celebrare a Pedro Almodóvar. Uso queste parole, che sono le mie di la misa catolica, perché il cinema è sua religione, lo ha detto molte volte. Il cinema corregia lo che la scuola humillava in lui e in molti niñas e niente. Su parroquia fu la sala di cinema di barrio. In ese altar di luci, di canzioni pegadizze, danzaron le divi di tutti i tempi che lo proteggono di la inutilità moral, come debieran essere i santi. In un reportaggio dijiste che sicuramente fuori un figlio molto forte per soportare la mirata di incomprensione. Il più forte di i bambini. Almodóvar... Ui, perdone. Almodóvar fu causa e consecuencia della movida, la contracultura che desempolvò a España del largo letargo del franquismo. combativano con le migliori armas, film, rivisti, libri, musica, fiestas. Molte fiesti, no? Dio questo con nostalgia di quelli anni 80, in cui il deseo era molto meno organizato che ora. La salute non era un ben necessario, e la città era la avventura a cui si devia lanciarsi. Era più importante avventurarsi in certe calles che avere un home theater 5.1 per vedere tre seasons di 11 capi. Una década con moltissimo meno miedo che ora. In 45 anni ha dirigito e scritto più di 30 filmi e corti. Sus invencioni formano parte della memoria della humanità. di una borsa di almacena in mezzo a un pastillero in Tokio. Tutti sappiamo che ha fatto cine senza ir a una scuola di cine e festeggiare questa carencia. Affinò i i oi in gli schismi di peluqueria con le lavanderas in il rio, in callejone di addicci insomni, in il cotilleo dei vecini. Per varie generazioni di direttori latinoamericani, il cinema è stata una reconciliazione con il castellano. Tutti affinarono il linguaggio delle nostre famiglie. No segnalò il exquisito cammino che i cantanti popolari come Chabella, Lalupe, Mina abbono in la banda sonora. Colleccionò in sua infanzia cromos o figuritas di divi del cinema, impresi in colori chirrianti che, dice, inspiraron su extravagante paletta di colori. Però è impossibile ver la obra di Almodóvar senza reconciliarse con i rinconi di nostri nostri casa dove naufraga la moda. I fondi horrorosi che poblano le nostre foto familiari, i nostri fiesti di 15, i sus peinati. Almodóvar inundò nostra memoria con invencions che non necessitano di gran presupuesto, sino di honestità provinciana. Esos livings di empapelados desquiciati, i los enfermeri amanti, i esas alfombrasi di animal print, i peinati con spray, i les mujeres asimètrici, i los agros de cafetera, i nos hicieron més libres. E' corto, igual. I nos liberaron del buen gusto, de la buena educación, de la moral mezquina, de los que se llaman a sí mismos normales. I nos liberaron de la claridad de los lazos familiares, i nos reconciliaron con la estupidez, con los refranes incomprensibles, con los malentendidos. Mucho antes de que las mujeres, los homosexuales, las trans, nos hartáramos en masa del miserable lugar que teníamos en la historia, Pedro ya nos había hecho heroínas. Ya había reivindicado el derecho a inventarnos a nosotras mismas. Ya había puesto las prótesis de mamas, los dildos, al lado de un cucharón, de una olla a vapor, al mismo nivel que cualquier cosa útil. Ahora se está ocupando de los hombres, que es fundamental. Gracias, Pedro. No hay deber, no hay deber ser en la ética de Almodóvar. Hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Desbarató la moralina que esconden los géneros del cine, los mezcló, elevó el melodrama por encima del thriller, I should say drama, no thrillers, abrazó el ridículo para ser un arma sin precedentes contra el maltrato. Si aceptamos que el cine expande el mundo que conocemos, el mundo ha crecido mucho desde que Pedro lanzó sus cortos a medio de los años 70. sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, que la ultraderecha se levante en el mundo como si nada hubiera pasado, ahora más que nunca te necesitamos. Porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos. Gracias, Pedro. Pedro, ven aquí, nos acompañe en el escenario. Gracias. 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 Mientras Pedro abbraccia Lucrezia, vorrei invitare il presidente del Biennale Paolo Baratta a raggiungermi sul palco con Ilone Nodoro.